Sono appena tornata a casa e guardate qua che bella sorpresa ho trovato, abbiamo fatto una scenografia del Re Leone che l'ha fatta lei, lei DF Event Planner, è bravissima ragazze, è venuta qua e in un pomeriggio ha fatto un miracolo questa è la scenografia della nascita di Daniel, ci sono qua dei dolcetti, dei confetti che si mangiano, meringhe, sono bellissime guardate queste qua, stupende, questa è la torta che ho scritto Daniel e abbiamo fatto scrivere è nato il nostro amore appunto sempre del Re Leone che sapete che ci siamo legati a questo tema, poi ci sono le piante che sono vere c'è il leone, c'è Simba, guardate, stupende, questi sono dei confettini fatti sempre da loro che daremo alle persone che verranno a trovarci fatela questa cosa, è carina, quando tipo partorite è bello, così magari loro vi lasciano questa scenografia anche per qualche giorno adesso rimarrà qua, una decina di giorni, resta qua così tutte le persone che mi vengono a trovare possono mangiare i dolcetti diamo i confetti, quindi è bellissima questa cosa e quindi vi consiglio di farla, da lei che è troppo brava, DF Event Planner vi metto il tag di Instagram, nel box informazioni e anche il suo numero di telefono per contattarla perché lei è un Event Planner anche di matrimoni, battesimi, feste, qualsiasi tipo di cerivonia, non solo eventi nascita però è veramente brava, cioè credetemi, io le ho detto soltanto il tema Re Leone e lei ha fatto tutto questo, no? Vabbè, bellissimo poi tutte le foto venitela a vedere su Instagram e poi c'è anche lei, eccola qua, che si è occupata invece della realizzazione dei palloncini che è anche bravissima, si chiama Le Creazioni di Joe ok, quindi niente, ragazze, io ve le consiglio, tu vuoi dire qualcosa? ma che sono felicissima di aver reso questo spettacolo insomma insieme a te veramente stupendo, cioè hai messo veramente tanta passione, si vede, complimenti davvero grazie a te che ti sei affidata a noi e venite e andate sulla sua pagina Instagram, eccola qua e poi ve lo metto anche nel box informazione perché lei ha messo un sacco di lavoro, un sacco di cose quindi potete prendere spunto ma poi lei è bravissima, cioè lei gli dite una cosa, fa tutto lei quindi state in buonissime mani grazie ragazze dietro a tutto questo lavoro, oltre alla bravissima Flavia lei, io che ho dato insomma la mia collaborazione c'è Diana Dominec che è l'altra socia che sta a fare che ha lavorato in gioco di quinte perché anche lei è in dolce attesa e quindi siamo curiosi poi di vedere di vedere le welcome di lei eh sì, lo vedremo a vedere sulla tua pagina Instagram ok, grazie ragazze complimentissime ancora sono troppo troppo felice grazie veramente grazie, grazie ragazze finalmente sushi a casa sushi guardate quante belle cose abbiamo preso tutto crudo ovviamente sashimi, gamberi questi con le uova di pesce i temaki queste sono le tartare un'altra tartare mmm, buonissimi amore, perché ho preso tre temaki? abbiamo preso due due comunque tantissima roba solo per me e Dario ovviamente vero amore? sì nostro amore che dorme e qua c'è Pupi qua c'è la mia ciambella perché non posso sedere fa malissimo grazie madonna non immaginate quanto posso essere stanca e distrutta vi giuro sono distruttissima stamattina siamo andati in banca per delle cose per la nuova casa e sono state tutti i giorni fuori ma non sapete organizzarsi con Daniel è veramente veramente tremendo perché bisogna portare tutte le cose lui adesso ha 15 giorni di vita vi devo raccontare un sacco di cose madonna che stiamo passando e stiamo vivendo sembro tipo un uomo di Pasqua e ve ne voglio raccontare appunto facendomi un po' di routine allora io mi hanno fatto mi hanno fatto vi farò tutto mi avete chiesto anche potete vedere la stanzetta di Daniel quindi sicuramente penso che il prossimo video sarà questo anche perché sto aspettando un po' di cosine nel frattempo mi faccio un po' di routine approfitto per far vedere un po' di novità su caritashow.com all'azione e mi rilasso perché veramente adesso che sta dormendo approfitto che ho 5 minuti di tempo per parlare con voi e mi dispiace se vi sto trascurando un po' però davvero è super super impegnato ho già solo se devi uscire con lui l'ho fatto la visita di controllo in clinica e devi portarti da un momento tante cose che ci vuole un'ora a parlarti prima dopo poi l'hai poppato ogni 3 ore vabbè comunque è massacrante però adesso mi rilasso un po' con voi faccio un po' di routine torniamo alle nostre cose ai prodotti bio naturali che devo anche un attimo distrarmi e staccare da tutto e vi faccio scoprire queste novità stupende nel frattempo voglio comunque parlare con voi e voglio anche rispondere a un po' delle vostre domande frequenti appunto voi mi chiedete dell'allattamento al seno che mi scuola il cellulare voi mi chiedete dell'allattamento al seno mi chiedete un sacco un sacco di cose e quindi mi chiedete del parto anche il video del parto che vorrei fare anche se sono un po' interditta vabbè adesso vi spiego ora fa tempo inizio allora prendo dischettino col viso e mi strucco praticamente gli occhi se usate l'extension utilizzate questo qua vabbè questo lo potete utilizzare sempre però se usate l'extension è ottimo perché appunto non ha oli quindi è perfetto comunque questo è uno struccante artitri è buonissimo e viso occhi e labbra potete struccare ed è buono anche se avete la pelle grassa e brufoli è ottimo comunque come al solito vi metto tutti i link dei prodotti che utilizzo guardate io l'ho consumato queste ne ho consumate in bottiglie bottiglie è buonissimo è anche un buon profumo e vi metto tutti i link in box in formazione sotto vi lascio anche il mio sconticino codice sconto che è Carlita Yt e come al solito lo lascio attivo 48 ore dalla pubblicazione del video quindi potete approfittare per risparmiare un pochino 15% di sconto su tutto il sito e per il viso mi piace tantissimo usare questo qua potrei usare anche quello però mi piace tantissimo usare questo qua perché è un po' di pelle secca mi piace un sacco questo nuovo prodotto ed è tipo un burro stuccante si chiama Lux Active Cleanser guardate è bellissimo io adoro questi pack della linea Lux adoro ragazze vedete è tipo un burro vedete la consistenza è proprio tipo aspettate ve lo faccio vedere qua è tipo un burro è bellissimo a volte me lo metto anche tipo sulle unghie per le buttiglie mi piace un sacco e questo lo metto sul viso per frucare il viso e mi lascia la pelle così morbida ed adratata sapete che la notte non sto dormendo quindi ho bisogno veramente di coccolarmi il viso c'è anche il collo ah mi tolgo le collanine gli orecchini carnita jewelry ovviamente questi qua me li chiedete sempre allora tanti sono finite e li stiamo rifornendo però voi controllate ogni giorno sul sito perché proprio oggi è arrivato un carico di gioielli nuovi modelli quindi andate a vedere che li abbiamo riforniti parecchi quindi adesso dopo aver fatto questo ok che ho struccato bene bene tutto vedete la mousse che anche questa la amo la stramo la lux soft mousse detox è buonissima questa qua per struccare il viso ragazzi ma poi vi dono un sacco guardate che bella schiuma cioè c'è solo ma poi che profumo tanti di questi prodotti mousse ma questo è in assoluto il mio preferito guardate qua vi lavo il viso mattina e sera vi lascio la pelle pulita purificata però morbidissima perché idrata anche quindi la pelle è già morbida bellissima comunque poi è una coccola veramente mi dovrebbe lavarvi tutto il corpo con questo perché è troppo troppo bello ok quindi vi dicevo al frattempo mi sciacquo è super super segreto questo qua il pannuccio sempre di eterea vi metto sempre il link nel box di fumazione sotto per asciugare il viso a detersione completata e questo vi assicura che veramente eliminate tutte tutte le impunità dal viso non sporcate l'asciugamano soprattutto non lasciate batteri tracce di trucco sull'asciugamano e vi pulite il viso quindi sicuramente non avrete brufoletti imperfezioni impurità perché veramente guardate voi pensate che il vostro viso è pulito però bisogna sempre passarci questo pannuccio con questo pannuccio avrete la pelle super super pulita ragazzi a questo punto mi metto questo che è buonissimo vi giuro io lo amo questo infatti guardate qua quanto è rimasto poco 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 è tipo una ruzione però spray si chiama intensive intensive multi active mist ed è specifico per purificare il viso illuminarlo è tipo un fluido però spray è buonissimo vi giuro che è una cosa pazzesca veramente vi perfeziona la pelle in un modo tremendo poi a un modo di vaporizzare voi spingete fine giù così fate un bello spruzzo mamma mia è una cosa meravigliosa è proprio fantastico io lo amo a questo punto picchietto un po' vi dicevo a me mi chiedete spesso anche dell'allattamento al seno mi chiedete un sacco di cose la stanzetta di Daniel vi ho detto ve la faccio vedere la prossima settimana per il parto sono un po' indecisa perché ho scritto un po' di cose su instagram e alcune persone giustamente mi hanno detto ma adesso vuoi spaventare tutti e quindi non so io sapete sono sempre molto sincera quindi mi piacerebbe insomma raccontarvi però non vorrei spaventare nessuno questo si ero appunto mi sono spruzzata serve tantissimo anche per la pelle impura o comunque con pori dilatati perché è un po' leggermente acido quindi chiudi i pori della pelle e l'effetto è proprio bellissimo pelle di porcellana ok poi vado a mettere i miei sieri che io amo tantissimo allora c'è il siero per le macchie questo qua è buonissimo ragazzi è proprio specifico contro le macchie che sto usando tanto perché qua mi sono fatte delle macchie durante la gravidanza che sto eliminando stanno schiarendo tantissimo questo invece è il siero all you need super serum questo qua è quello con le particelle di oro 24 carati per illuminare il viso adoro e poi c'è questo qua che invece è una novità che è il gel di acido di aluronico a triplo peso molecolare ragazze è favoloso guardate qua di costese siciliana anche su questo c'è lo sconto con il codice carita yt e vi metto il link nel box informazione è buonissimo sapete che l'acido di aluronico è favoloso per la pelle quindi adesso io mi metto un po' tutti i sieri allora questo per le macchie me lo metto in particolare qua dove ho le macchie quindi vi dicevo non so ditemi anche voi che video vorreste vedere io ho talmente tante cose da dirvi di cui parlarvi che veramente non so da dove partire questo qua oro 24 carati guardate che meraviglia favoloso me lo metto dappertutto e anche sul contorno occhi perché appunto ha questo effetto illuminante che sapete per me che non dormo è veramente qualcosa di unico dopo me lo metto anche sulle mani serve ragazze serve ok e vi volevo fare anche un video su come sono andate queste prime settimane con Dania come ho imparato a calmarlo come un po' tutto quindi non so fatemi sapere comunque questo gel è ottimo ragazze prenditelo perché è a triplo peso molecolare quindi agisce in tre profondità e va veramente a fondo nella pelle è perfezionatissimo più sapete che l'acido eronico è la cosa più fenomenale per la pelle è veramente fantastico quindi quando quando inizierete a utilizzarlo vedrete subito la differenza io lo metto qua acido eronico dappertutto torna alle labbra anche sul collo ok abbondate ragazze che veramente fanno solo che bene questi prodotti faccio un bel massaggino e quindi vi giuro che è tutto bellissimo però è anche tutto nuovo quindi ci sono 3.000 ansie 3.000 paure e non so ad esempio ha fatto la cacca oddio non l'ha fatta oddio l'ha fatta troppo spesso oddio verde oddio giallo oddio duro oddio molla già solo per la cacca poi tipo per esempio la notte si sveglia piange piange troppo se non piangono comunque ragazze sono mille preoccupazioni il prato bellissimo lì è bellissimo è dolcissimo e mi chiedete o chi somiglia io sinceramente non so dirvi a questo punto ragazze metto la crema ah volevo consigliare anche la maschera se avete il problema delle macchie io proprio stamattina l'ho fatta e ve la straconsiglio che questa maschera all'acido pipolico è buonissima praticamente questa qua è come se fosse maschera e scrub insieme fa un effetto peeling quindi rimuove le macchie segni post brufoli le imperfezioni tutto è veramente favolosa e quindi questa qua la potete fare due o tre volte a settimana e dopo me sto trovando bene per il problema delle macchie però vi ripeto anche segni post brufoli qualsiasi tipo di imperfezione oppure come maschera potete utilizzare questa qua che è quella là al carbone skin clear al carbone questa è super purificante questa è ottima vedete eccola là al carbone è ottima contro se avete invece più punti neri brufoletti imperfezioni questa qua è veramente favolosa è molto astringente quindi se avete il sebo in eccesso alla pelle grassa mista impura questa è ottima e poi vi consiglio una terza maschera che è questa qua che è favolosissima è la maschera per pelli grasse di apiarium è buonissima ragazzi questa qua vi eliminerà tutti i punti neri e brufoletti da viso tutte le imperfezioni poi comunque qualsiasi sia la maschera che voi utilizzate anche i prodotti schiarenti per le macchie di giorno utilizzate sempre questa crema questa crema è favolosa è della crema iperidratante protettiva glicolica quindi fa parte sempre della linea glicolica però è una crema che va messa di giorno appunto per proteggere il viso ed eliminare giorno dopo giorno queste imperfezioni queste macchie prevenirle e eliminarle dal viso quindi questa qua si chiama glicolica crema viso iperidratante è la crema che dovete sempre utilizzare se utilizzate questi prodotti per le macchie eccetera questa qua utilizzatela sempre veramente favolosa vi protegge anche dall'inquinamento dai raggi solari un po' da tutto e previene combatte le macchie quindi top e adesso io mi metto questa qua che mi piace un sacchissimo che è la crema idratante con miele vitamina c e pappa reale è buonissima idratante eccola qua eccola questa è un sacco questa crema di apiarium è buonissima anche su questo codice sconto e anche questa vi metto il link nel box di informazioni che so che poi magari non la trovate anche se è semplicissimo sul sito trovate tutto basta che andate in categoria viso eccola qua mi piace un sacco questa crema anche perché ha una buona profumazione e poi subito si assorbe ed è molto idratante avendo anche la vitamina c l'acido eronico eccetera ha un effetto molto molto idratante sul viso e questo vi volevo dire una cosa importante ragazzi vedete che io amo tantissimo i seri amo tantissimo ho fatto vedere le lozioni i sieri il gel l'acido eronico tutto e li uso sempre però sempre dopo metto la crema è importantissimo ragazzi perché comunque hanno due funzioni diverse uno non esclude l'altro quindi il siero ha una funzione che è ricca di attivi ha una funzione purificante illuminante che va comunque a improvondirare la pelle però comunque poi ci vuole sempre un'emulsione dopo che sia una crema o comunque un fluido che vada ad idratare la pelle e quindi a lasciarla morbida nutrita eccetera quindi questa qua è l'ideale anche perché non ingrasa il viso subito idrata io le metto un po' anche sulle mani perché mi piace un sacco e quando le creme mi piacciono le metto ovunque quindi non sto a vedere se crema viso crema corpo crema a mani me le metto ovunque per questo è veramente super idratante è profumata però subito si asciuga quindi wow quindi vi dicevo ragazzi fatemi sapere anche voi quale video volete io per me diciamo è tutto super magico è tutto super bello però io non ho veramente tantissimo tempo per farvi video anche se veramente ve ne vorrei fare tanti perché mi piacerebbe proprio condividere con voi tanti momenti farvi tante cose però veramente cioè già con la gestione del mio shop online è già difficile comunque quello ovviamente è alla priorità come lavoro perché ovviamente tante persone comprate sul mio shop online e quindi io vi voglio dare il meglio ovviamente anche se ho uno staff che comunque lavora però comunque anche io ci devo mettere il mio comunque è importante ci vengo tantissimo a seguire tutto quindi diciamo che la maggior parte del tempo e la maggior parte dell'energia a parte Daniel ovviamente la casa e Daniel la impiego comunque per il mio shop online poi dopo ovviamente viene instagram leggi story youtube tutta la gestione dei social però se sono meno attiva è semplicemente perché veramente è una questione di tempo e voglio anche godermi ogni attimo con lui a parte voglio godermi ma poi la sentite cioè adesso sta piangendo quindi io adesso praticamente devo mollare tutto e devo andare da lui quindi praticamente per quanto io possa amare comunque il mio lavoro amare quello che faccio ovviamente la priorità l'ha lui soprattutto in questo momento che è veramente piccino quindi ha bisogno continuamente di essere cambiato di essere allattato quindi adesso io devo andare e vi faccio adesso una panoramica dei prodotti che ho utilizzato così sapete cosa comprare vi metto tutti i link nei box informazioni vi aspetto su caritashoff.com col codice sconto carita y valido 48 ore vi aspetto nei commenti ragazzi ecco la panoramica dei prodotti che ho utilizzato vedete il burro struccante la mousse i vari sieri che vi ho detto il gel di acido ironico la crema lo struccante questo qua l'acqua micellare la maschera che vi ho detto contro le macchie la crema che vi ho detto contro le macchie la maschera purificante le due maschere purificanti e questo è tutto io vado da Daniel ciao vi aspetto su caritashoff.com controllate la lista sotto che ci sono tutti i link dei prodotti che ho utilizzato per questa routine purificante illuminante e super idratante a prova di notti in bianco che ci sono Grazie a tutti.